Grazie. 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 Non c'è quello di un'altra parte, ma anche se stia flogging. Ehi, non c'è via, beh. Grazie a tutti. Tu dici, ma lei no, puoi andare a fare l'attentanza. Dunque, io posso andare con il braccio di là? Ecco, guarda. Se non lo mettiamo in questa sera. C'è l'olio, può tirare, no? Può fare un borgio. Se ci otterrò, non lo mettiamo qua. Cioè, non da là. C'è anche qua lì. Sì. 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 Grazie. Grazie. Grazie.